BELLA VECCHI TRAVANI SEMI GRANASSE siamo tornati qui con un nuovo video e oggi torniamo con un video sulle app perchè abbiamo trovato un'app veramente figa che è carina e secondo me è pure bella da vedere E' figa? Carina o bella? Cioè è figa da vedere su youtube perchè l'app zitto l'app è questa Non è carina e bella L'app è questa qua 94% ovvero cosa dobbiamo fare? Praticamente lui fa una domanda frutta con semi o noccioli? Con noccioli Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare una risposta che sia la stessa che hanno dato il 94% degli altri utenti Quindi anche voi se giocate a quest'app se avete dato questa risposta deve corrispondere a... cioè noi dobbiamo fare in modo che la nostra risposta corrisponda alla vostra Quindi dobbiamo essere bravi per capire qual è la risposta che darebbero tutti gli altri Esattamente Quindi tu una frutta con semi e noccioli O noccioli O noccioli Quale pensi? Ma io non penso al copomero però ai noccioli Eh però l'altro che... Quindi mettiamo anguria E c'è... ah semi e noccioli potrebbero essere le ciliegie Ciliegie o anguria Io metto ciliegie 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 a 11% Mettiamo anguria 11% 11% E quindi che cazzo è? Siamo a 22% Dobbiamo arrivare al 94% Uva 8% Ok Pesca Sì pesca o mela 19% Eh sì perché la pesca c'ha il nocciolo e all'interno del nocciolo c'ha la... Siamo a 49% E quindi mela Mela Perché all'interno del nocciolo c'ha il seme capito? 14% Che cazzo è che è il 24% che cosa voglio capicare non ho visto quelli almeno il 24% Prova te stesso Ananas Pera Ma... Pera se non è poco 7% 7% 24% che frutta è? Albicocca Susina no 0 Albicocca proviamo 24 È l'albicocca Poi Si trova in un portapenne Vabbè Matita Penna no Scusa Cioè Penna 42 Cazzo Si trova in un portapenne Ehm Pennarello Nessuno ha messo pennarello Gomma Vabbè 14 Mina 8 No Righello Cioè Un mezzo mina Vabbè 90 Ci manca? 4% Ci manca 2 e 2 Che cazzo si trova? La squadra No Evitenziatore Cazzo c'è Un portapenne Usiamo un jolly gratuito Vai Forbice Ah è vero Ok Adesso Forbice Colla No Te era venuto là Un po' del genio Scocce Eh E come si scrive Scocce Così Tramezzini Che cazzo Tu guardi così tanto Trapezioidale Cioè Temperamatite Vaffanculo Ma dai Ma che cazzo Cioè Ci sono arrivato Allo stesso momento tuo Carco Dai ma dovete morire Però Ma a questo punto Mettimi temperino Io metto il temperino Capito C'è un cielo insieme E' un pramatire Cosa dobbiamo fare Incendio Solo il 14% Pompieri 32% Fiamme 27% Acqua 15% Palazzo Pompa Pompa Sono fenomeno Ma questo è stato Molto più giusto Sì Vabbè Vai E questo è solo il livello 1 È fantastico questa cosa Andiamo al livello 2 La prima cosa che fai al mattino Duccia No Masturbazione Mettilo te prego Ok Vabbè doccia Lavare Colazione 42% Easy Colazione Vestirmi Mi vesto Zaino Ma che zaino Preparo lo zaino Bagno Va bene così Va bene Bagno Cagata allucinante E poi Sigaretta Prova un po' Magari sarebbe un giornale Macchina Giornale Corca troia Che palle Prova Tanto per 10 Prova a vedere che parola Masturb Mi seguo Non ce l'ha essere vero No Minche Mi Mi alzo Siamo proprio stupidi Comunque Siamo proprio stupidi C'è cazzo da fare Ma io non mi alzo Rimango sempre uguale Eh sì certo Colazione Dei lavare Tutto dentro al letto No Rimango uguale Rentezza Non è che mi alzo Gesso Sì Gesso Lavagna Scuola Disegno Preso il 2% Colori Gesso Lavagna Scuola Legno Legno Se fossi una persona normale Cosa penseresti Anzi fosse il 6% Della popolazione Andiamo col jolly Andiamo col jolly 5 punti Non possiamo prendere una lettera Quindi dobbiamo trovarla ora Ba Bas Bambino Stiamo in curato Stiamo in curato Stavolta Facciamo quest'ultimo livello Dopodiché Se arriviamo a 30 Se arriviamo a 10.000 like Ci sarà un prossimo episodio Con gli altri livelli Ho letto Si porca velocemente Si porca velocemente Si sporca velocemente Si sporca velocemente Maglietta Vestiti Questo è difficile Devo dire Bavaglio Calzini Vestiti Pavimento Pensa a cose A cose generiche Auto La fregna Auto Cane Piatti Cioè cane L'ha preso mani Va bene così Mani Faccia Corpo Probabilmente corpo Cazzo Quello si sporca velocemente Poi Lo schermo del pc Cazzo che si sporca velocemente Bambino Il bambino si sporca facilmente È giusto È giusto Tovaiono Puliti Le scarpe È giusto È un po' da migliorare questa app Tu usi un tovaiono Per pulirti le scarpe Onestissimo Manca soltanto il 16% Oh Il 94% hanno pensato a queste cose Ma l'altro 6% A che cazzo ha pensato? Tipo quelle cose che abbiamo inserito noi Che non sono andate bene Tipo lo schermo del pc Se c'è stavano 16% di persone Scrivevano schermo Ora quello adesso Dobbiamo pensare a quello che ha pensato il 16% di persone Cosa si sporca facilmente Secondo il 16% di persone Che non abbiamo fatto Bavosa La bava La bava Baviera La bava Si sporca velocemente Devi pensare Una cosa che comunque Quello bianco Il bianco si sporca veramente Vabbè ma che fordice Non c'ha senso Sì perché il bianco È quello che si sporca di più Fantastico Sì dopo tre ore Mamma mia Vediamo cose che si schiacciano Animali molto lenti No che fa La tartaruga La lumaca Vabbè lo faremo nella prossima Nella prossima Il prossimo episodio Se arriviamo a Tot like E vediamo in questo video Mi piace Ce lo dicete In descrizione Bella Bella